Lo studio che abbiamo realizzato per Mostra Convenio Expo Comfort ha alcuni dati positivi e alcuni dati negativi. Il dato positivo è che l'efficienza energetica nel nostro paese, nonostante tutto, nei prossimi tre anni comanderà circa 13 miliardi di euro di investimenti, stando semplicemente nel mondo del residenziale, quindi sicuramente un potenziale di mercato estremamente interessante. Il lato negativo qual è? Che la maggior parte di questi investimenti, però circa 9 miliardi di euro, andranno per soluzioni tecnologiche disgiunte, ovvero sostituzioni di caldaie, sistemi di condizionamento con sistemi più efficienti. Perché dico che questo è un aspetto negativo? Perché in realtà una delle nuove frontiere dell'investimento nell'efficienza energetica riguarda il tema dell'integrazione fra più tecnologie. E quindi chiaramente pensare che la larga parte del mercato delle installazioni non vada verso soluzioni integrate, quindi verso una progettazione complessiva dell'efficienza energetica dell'edificio, ma si limiti a sostituire impianti esistenti con impianti più efficienti, magari nemmeno facendo in maniera corretta il nuovo dimensionamento, è un po' un peccato, nel senso che stiamo sprecando un po' del potenziale di efficienzamento energetico che potremmo avere. Delle soluzioni combinate in realtà ne abbiamo studiato due grandi famiglie, la prima che riguarda soprattutto l'efficientamento elettrico, quindi per esempio mettere una pompa di calore insieme a un pannello di produzione fotovoltaica, insieme a un sistema di storage e insieme addirittura a una colonnina elettrica per la ricarica dei veicoli alimentati elettricamente. La cosa interessante è che questo investimento, che è nell'ordine di 30.000 euro per una soluzione residenziale, quindi può apparire estremamente significativo, se fatto non tanto su un'utenza singola ma su un insieme di utenze che magari condividono la colonnina di ricarica o possono condividere parte del sistema di storage, comincia a diventare economicamente interessante. A maggior ragione questo tipo di sistemi potrebbe essere interessante se traguardiamo i prossimi due o tre anni, pensando a quanto sta succedendo nel mondo dello storage e a quali soluzioni più efficienti dal punto di vista economico avremo nel prossimo futuro. Anche dal punto di vista termico però, per esempio l'accoppiamento fra caldaia condensazione e solare termico, l'accoppiamento fra questo tipo di soluzioni e la coibentazione dell'edificio, anche in questo caso aumenta di un po' l'investimento iniziale ma crea un effetto positivo di riduzione dei consumi nel lungo termine. La vera sfida è far capire come questo tipo di soluzioni integrate, efficacemente progettate, dà valore all'edificio nel tempo e quindi può essere per esempio scaricata anche sul mercato immobiliare.